Bentornati su N7 Italia, il canale dedicato alla serie Mass Effect. Per quanto tempo avete ascoltato la colonna sonora del primo Mass Effect? Qualche decina di ore? O forse addirittura centinaia? Bene, allora dovreste essere preparatissimi per un piccolo quiz musicale. Ho scelto per voi dieci brani, ripeto, solo dal primo Mass Effect, e vi farò ascoltare per ciascun brano un piccolo estrato di 15 secondi. Cosa dovrete indovinare? Non il nome e l'autore del brano perché sarebbe un'impresa per pochi, massimo rispetto a chi ci riesce. No, dovrete indovinare la scena, la missione o l'ambientazione in cui c'è quella data musica di sottofondo. E qui, beh, io vi riporterò un esempio, ma non è detto che sia proprio l'unico, quindi eventualmente scrivete nei commenti se sapete che un certo brano si sente anche in altre situazioni oltre a quella che vi mostrerò. Ok, a questo punto possiamo cominciare e, chiaramente, fatemi sapere i vostri punteggi. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.